Ciao a tutti da Filippo Giannini, ben ritrovati all'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con la nostra video analisi settimanale sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system oggi martedì 21 dicembre 2021, focus di oggi su Wall Street Prima di iniziare al solito una veloce panoramica sul nostro sito www.tradingfacile.eu qui trovate tutta la reportistica inerente ai nostri trading system, le nostre promozioni e a breve anche il calendario con gli appuntamenti e le dirette del mese di gennaio per qualsiasi informazione vi ricordo che ci potete scrivere a info-tradingfacile.net seguirci sui principali canali social, se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al nostro canale YouTube pagina Facebook e canale Telegram Bene, come detto, tema di oggi Wall Street andiamo ad analizzare quella che è la situazione sui principali benchmark azionari partendo magari da SP500, anche se poi la situazione vedremo che è pressoché analoga sui tre più importanti listini cosa c'è da registrare? Innanzitutto una decisa impennata della volatilità in particolar modo nel corso delle ultime due settimane abbiamo visto appunto degli swing di più ampia portata rispetto a quello che era stata la media insomma dei precedenti periodi e qui come ho già detto più volte nel corso dell'ultimo periodo questo potrebbe essere un antipasto di quello che ci aspetta nel corso del 2022 ovvero in generale un mercato meno direzionale e più volatile questo non significa che il 2022 secondo me si chiuderà con un azionario americano a rendimenti negativi però sicuramente dovremmo abituarci magari ecco a delle salite meno repentine contrariamente appunto a quello che è successo ad esempio nella prima parte del 2022 e invece delle discese un pochino più marcate quindi anche qui magari il mercato non andrà a ricomprare le discese dell'ordine dell'1-2% come magari è accaduto nella prima parte del 2021 ma invece magari dovremmo abituarci a delle correzioni di ampiezza un pochino più ampia correzioni che però poi ecco ripeto magari andranno comunque ad essere ricomprate come peraltro è accaduto nel corso dell'ultimo dell'ultimo mese a livello tecnico cosa registriamo questo sia su SP che su Nasdaq che su Dow Jones registriamo il fallimento del pattern rialzista testa e spalle rovesciato e quindi qui lo vediamo appunto con queste barre di inversione giornaliera registrata nei pressi dei livelli di breakout sia per SP500 sia che per Dow Jones e sia che anche per il Nasdaq quindi questo in generale denota comunque sia una debolezza appunto che c'è in questo momento sul comparto azionario e quindi da qui poi abbiamo visto la discesa di ieri appunto dove abbiamo assistito ad un mercato che è andato a ritestare livelli vicini ai minimi appunto di inizio mese scorso in questo momento però attenzione perché il mercato è andato comunque sia ad appoggiarsi su questo importante supporto dinamico e quindi supporto che aveva poi favorito il recupero delle quotazioni sia a fine 2020 e sia nelle ultime due occasioni del corso del 2021 quindi potrebbe esserci spazio in questo momento per assistere ad un rimbalzo secondo me gli obiettivi di questo eventuale rimbalzo vanno ricercati come target massimo quota 4650 per SP500 quota 16100 per il Dow Jones quota 35,5-35,6 al massimo per il Dow Jones però poi occhio perché su questi livelli insomma ecco potremmo assistere ad un nuovo storno di mercato tutto dipenderà anche da quello che succederà appunto sul grafico monitorando il grafico della volatilità implicita qui lo vedete questo è un ETF che è composto con appunto una selezione di VIX su scadenze brevi, su scadenze medie quindi ci dà una visione di insieme di quello che è l'atteggiamento degli investitori appunto sul mercato delle opzioni e quindi qui c'è da registrare che cosa? innanzitutto anche qui un aumento appunto della volatilità quindi un aumento appunto della volatilità della volatilità e quindi questo sicuramente riflette in generale un cambio di visione da parte degli investitori qui per trovare appunto uno swing di ampiezza tale come quello registrato nel corso dell'ultima settimana delle ultime due settimane dobbiamo tornare indietro a ottobre 2020 in generale appunto quello che avevamo assistito è stato un picco culminato con questo rialzo del 6 dicembre mossa che è stata parzialmente riassorbita e qui magari ecco occhio a quello che succederà sul mercato della volatilità implicita perché appunto in generale teniamo d'occhio questo range e quindi fino a che il mercato appunto scambierà sulla parte bassa di questo canale costruito con le bande di Bollinger balle di Bollinger perché a mio avviso è uno strumento che modella molto bene quello che è l'annamento del VIX e quindi in questo momento stiamo registrando una volatilità implicita in leggera discesa questo potrebbe favorire un recupero occhio però che se la volatilità dovesse tornare appunto a scambiare nella parte alta di questo canale fatto dalle bande di Bollinger questo dovrebbe andare a sopportare nuove vendite sull'azionario dico di monitorare la volatilità implicita perché comunque nello scenario attuale che rimane appunto uno scenario delicato è molto difficile fare previsioni a lungo termine l'unica certezza che abbiamo sono le nostre soglie di inversione di tipo settimanale ovvero quelle chiusure settimanali che se dovessero verificarsi al di sotto di determinati livelli dovrebbero portare nuova debolezza sull'azionario quindi in questo contesto per l'SP500 non dovremmo registrare chiusure settimanali inferiori a quota 43.300 punti per quanto riguarda il Dow Jones non dovremmo registrare chiusure settimanali inferiori a quota 33.300 punti per quanto riguarda il Nasdaq le soglie di inversione settimanale sono fissate al di sotto di quota 14.650 punti bene andiamo adesso al solito a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di ieri dei nostri trading system ieri è stata una giornata nella quale si poteva di fatto andare ad operare sia long che short perché abbiamo assistito ad un'importante mossa al ribasso nella prima parte di sessione dopodiché c'è stato un recupero anche significativo se vogliamo nella parte finale e quindi qui i sistemi in day trading si sono mossi lato short e quindi qui ci sono da registrare appunto delle operazioni chiuse in positivo per sistemi che hanno aperto ad inizio sessione quindi mezzanotte e 05 hanno chiuso poi la posizione alle 21.50 quindi di fatto alla chiusura della sessione cash quindi vediamo una sul Nasdaq e altrettanto medesima situazione su SP500 però di fatto c'è stato spazio anche per operare long quindi con dei segnali che sono scattati come in questo caso alle ore 19 con il recupero di quota 4527 punti eccolo qua e qui anche qui chiusura della posizione alle ore 23 quindi poco dopo la chiusura del cash e in questo caso il recupero è stato di oltre 40 punti rispetto appunto all'apertura della posizione bene io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu e per qualsiasi informazione ci potete scrivere a info-tradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading www.tradingfacile.eu